Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 19 febbraio e beato Corrado Conforonieri. Oggi è la giornata mondiale delle balene creata con l'obiettivo di promuovere la protezione del loro habitat e di diffondere la consapevolezza sugli sforzi necessari per preservare queste specie affascinanti. La storia della giornata mondiale risale agli anni 80 quando l'International Voling Commission ha deciso di viettare la caccia commerciale. Questa decisione è stata presa per proteggere le popolazioni di balene che erano state decimate dalla caccia indiscriminata. Oggi è anche la giornata nazionale del nove lame insieme di piccoli pesci e la giornata internazionale del cioccolato alla menta. Trenati oggi annoveriamo Nicolo Copernico 1473, Massimo Troisi 1953 e Veronica Pivetti 1965. Tra i scomparsi ricordiamo invece Umberto Eco 2016.